SILENZIO Anche se questo torneo è stato un inferno, grindiamo alla finale che vinceremo a fare EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Quando mi dai il bio, va In questo torneo abbiamo raccolto ben poco ma siamo tutti uniti con il mister Copo EUEEEbox! Anche se qui l'abbruzzo abbiamo toccato il fondo, un minuto di vaso è quello che i ubbela del mondo EEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH rahaha a a a un per il cart Grazie a tutti.